Eeeh, dai! Che facciamo? Signore, l'operazione Acquay Una porta Questa Lo Stratcom è stato informato di un incontro tra i leader dell'SDF in programma nella fascia di Kuytel Quattro caccia torpediniere scorteranno i bersagli sull'Icaria Saliremo a bordo per eliminarli Faremo tutto noi due, so Massima fortività Ricevuto, io sono pronta Ho un bel po' di roba per lei, capitano Mi serviranno armi silenziate, per ovvi motivi Attenti ai robot di sicurezza del Sardegna Dovrete violarli, o usare granate elettriche Caricamento simulazione Caricamento simulazione Simulazione attivata È un bel po' di roba per l'autostro Te fai uno, in questo caso Questa è un bel po' di roba per l'autostro Questo è un mitrino, no? Ok. Va bene. Buona caccia, signori. Retribution in arrivo. Una volta sbarcati, trascondiamo i Zekol e aspettiamo i Zekdev all'1.circonda. Rafforiamo la palimetria dell'Igaria, seguiterò il controllo ambientale, spegnerai il supporto vitale e abbatterai i bersagli. Defend, andiamo. Scala 1, suggeriamo di eliminare i buoni, se succederà più naturalmente. Bene. Ricevuto! Scala, tutto pronto per il lancio. Roger, ci siamo! Lancio in tre. Ossigeno al 36 per cento. Dovrebbero essere già qui. Trenta minuti senza comunicazioni con la Retribution. Nessun supporto vitale per ora. Aspettiamo. Ricevuto. In attesa di attività nere. Ci siamo. Versaglio confermato. SDF Icaria, sopra di noi. Entriamo dal portellone inferiore. Ok, vicini allo scafo. Accetto. Questo canzio di gesti che si spegne. Non quel cazzo. Pronti a entrare. Si spegne. Boh, e si spegne da su. Il relè è poco più avanti. Da lì ti posso portare al luogo dell'incontro. Bene. Ah, che fa la mano. Piazza questo nel sistema di ventilazione. Non ci hanno ancora notato e non lo faranno. Ah, c'è a dormire. Ci siamo. Mi collego per localizzare l'incontro mentre cerchi l'unifone. Ok, faccio rapporto dagli alloggi. Attento, mi vi conoscino a te. Tienilo d'occhio sull'interfatta. Andiamo. 5-2 ha confermato la presenza di forze UNSA. Avete un rapporto con la posizione delle unità 5-1. T-14 ha rapporto nell'angar di sinistra. T-14 ha rapporto nell'angar di sinistra. Soltat, sono in posizione. Ho visto i rapporti, sì. Danni davvero ingenti. Nel prossimo assalto verrà schierata le cani. Pure. Le hai conferma? Il consiglio ha scelto la nostra nave per la conferenza di oggi. Dalla nave per la nostra regione di routine, riferire condizione e passare al programma... Ho aspettato tutta la vita in questo momento. Provo rimorso a usiare mentre i nostri fratelli muoiono con onore in terra straniera. Sarebbe stato un peccato se la guerra fosse finita prima di poter spargere personalmente un po' di sangue terrestre. Caserma libera. Nessun allarme nelle comunicazioni. Non ti hanno scoperto. Continuiamo così. Che figo così. Che può fare tutto silenzio. Allora... Dovrebbe esserci un uniforme lì. Uniforme. Ecco l'uniforme. Com'è la situazione? Tre dei bersagli sono saliti sull'icaria. Il contro sta per iniziare. Per avvicinarti ti servono delle credenziali. Ti segnalo un bersaglio. Ruba gli libri. Ricevuto. Manda. Oh, perché c'è c'è la camera liscia? Ok. Ma penso che debba stare lontano. E' un po' lontano, lontano. Disattiva la situazione di seguire. Disattiva la situazione di seguire. Un po' di FIFA. Genta. Desideroso in cantarsi del proprio valore. Gente. Buongiorno. 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 Non c'è nessuna cosa che mi aumenta il potenziale per riparci? No, qua non c'è nessuna cosa. Potrebbero essere le dieci, ma non abbiamo confermi. Tu, vieni con me. E abbiamo circondato un... Muoviti, non devono sfuggirci. Recevuto. Arrivo, Solta. Porto compagnia. Coglione. No, qua. Tranquillo, Solta. Sono io. Odio quell'uniforme. Ho impostato il segnale per la retribuzione. Andiamocene. Eseguo. Ehi, copritemi! Forza nemiche! E' una scuola! Andate! E' una scuola! E' una scuola! Trenta metri! Oh, madre. Ho un bersaglio! Vichrivo già un'predayes! Rispondete! E' una scuola! 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 No! Non c'è una scuola! Oore tre! Ho un bersaglio! In комментарio! Ore 11! Oh... quindi ci metto in carta e andiamo a restare non c'è niente ricevuto ricevuto inviate subito i jackal nemici in arrivo ecco l'in arrivo signore è dura c'è niente ricevuto li vedo li vediamo la retribution per quelli scari gator pronti al salto gli scar libereranno l'area scar 2 avete sentito il capitano gaccia autorizzato oh ci sono un po' di questi guardi al barrio chiederemo in fondo ci siamo quasi gator ci sono un po' di questi guardi ci sono un po' di questi guardi torna solare tributio ci serve pronti al salto frate razzo automatico inserito pelli fuori fai gaccia bentornati ssh 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 appartamento nemico grazie sicuro di incursione mirata delle forze Sato durante una riunione segreta dei vertici del 7-Def Stando alle fonti, alcuni ufficiati allo grado del 7-Def sono stati assassinati da una squadra scarte lì nel frattempo i movimenti della flotta del 7-Def continuano a ostacolare il flusso di risorse dirette alla terra senza queste risorse difficilmente le dami da guerra Sato danneggiate potranno essere riparate qui Jerome Davis il Bulls non sai che è bella la magia è vero e ciò ti sbloccato ok tutti sono informati di tutto mettiamoci alla prima tutti sono informati di tutto guarda la descrizione tutto informato di tutto oh che sta succedendo? è così vicino signore l'operazione acqua e fiamme è su titano la luna di Saturno dovremmo occuparcene subito io io fagiole questo è la roba potenzione ok scriviamoci c'è un caccia torpediniere in un campo di asteroidi nell'orbita di Europa vogliono impedirci di accedere all'acqua è una sola nave niente di più facile la Solis va trovata e neutralizzata ti Tack l'abbiamo con la ok cos'è potenze un minuto scato guarda che c'è è bello che c'è oh take away sembra una passeggiata non portare sfiga chiama prudenza ricevuto noi due andremo in cerca del cacciatore penitore ok roger siamo pronti faccio in tre due uno quasi al campo di asteroidi capitano ricevuto a contatto scar sul perimetro ricevuto provate che c'è il perimetro vedi qualcosa tutto tranquillo dopo il campo di asteroidi le coordinate sono giuste è lì da qualche parte eccolo là nessun segnale non è operativo il 7 def l'ha fatto saltare questo spiegherebbe perché indifeso gator mandi una squadra a recuperare quello che è rimasto subito signore torniamo alla base fever non è possibile che sia finito faccia torpediniere sdf ce ne sono due cazzo un'imboscata scar abbiamo navi nemiche che convergono su di noi fuoco a volontà scelta ore tre ore tre abbiamo scritti grassificati come la sede ricevuto 1 4 1 sold tutto ok Contramisore! Skelter abbattuto! A sinistra, a sinistra! Dobbiamo abbattere più Skelter! No, vabbè, si gli dà. Oh no! Questa persona non è vero! Focca sugli Skelter! Bersaglio a sinistra! Bersaglio a sinistra! Skelter, l'adavanti! Bersaglio a sinistra! Bersaglio a sinistra! Flippi! minaccia ore 9 dovremmo imita lì su un ascio caccia torpediniere andato gator se può prendere l'iniziativa ne approfitti facciamo fuori retribution ha neutralizzato l'altra nave mi manca uno affermativo ci sono altri caccia nemici spaziamoli via colpisci lei jack rider l'ejec fuori dalle palle l'ejec fuori dalle palle l'ejec fuori dalle palle spaziamoli No, finiti i missi lì Oh, non viene in alcune cose Tutti gli Ajak nemici sono stati distrutti Quello era l'ultimo Complimenti a tutti Vabbè Scaro 1-1, mi avvicino alla retribution Procedere all'atterraggio 1-1, roger 1-2 Capitano, trone di subito disponibile Trone in fronte Flap giù, carrelli fuori 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 Spire i cubi, carrelli fuori Alcune fonti riferiscono che il bersaglio era un prototipo a bordo di una nave del Sentinel Defense Front Dopo una breve scremaglia le porte Sato hanno accordato la nave e recuperato il prototipo E' atteso un comunicato ufficiale dell'UNSA Ma sappiamo che l'operazione è un duro colpo alle capacità offensive del Sentinel Qui Peter Bryan, diretta da Ginevoli Bentornato signore, stiamo esaminando le scie dei salti delle navi nemiche per risalire al punto di partenza Ce le facciamo Ah di daia non riesco Quante? 90% Operazione porto sicuro I cacciatorpediniere Sedef hanno assediato un importante avamposto navale La squadreglia in difesa ha chiesto rinforzi Interveniamo e neutralizziamo le navi nemiche Quell'avamposto ci serve per portare risorse al porto lunare Ehm... Sì Vediamo se mi è consigliato Allarme generale, allarme generale, tutti ai posti di combattimento Condizione zebra, questa è un'esercitazione Dobbiamo aspettarci una forte resistenza Giusto, metteremo la Retribution nel fuoco incrociato Gator ai comandi, armi inserita Pronta a combattere Non vedo l'ora Capitano, tenente I nostri sono in difficoltà Salteremo direttamente nel fuoco incrociato Recevuto Mi servirà fuoco di supporto dalla Retribution Agli ordini Dica che sta arrivando la cavalleria Scamolo, massima attenzione ai detriti vaganti Recevuto, uno 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 due Eccolo avamposto, ore 12 Navi principali, SDF in vista Gator in arrivo Retribution, fuoco a volontà sui cacciatorpediniere Scar, armi pronte, attacchiamo Contenere Prendenda Struggiga L'hymore Chia fegare Altoskelter Turbino Amore Che Che L'hymore È Gluzione E L'hymore L'hymore Ecco Che 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 Che, Che si allontana 100 passo eliminato gator aggiornamento serve aiuto negativo per ora roger dobbiamo abbattere più skelter lascio adesso c'è che c'è di scuola di scuola guarda questo mi sfida i gol 2 3 3 4 5 6 6 non sono alzi tutto l'alba è vero 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 non risparmiamo i colpi quello a mio posto è troppo importante facciamo piazza pulita quando lo raccoglie è vero non l'arrivo è vero è vero non l'arrivo non gli ultimi non l'arrivo l'arrivo è vero Cosa direi Sì, colpi il segno sulla nave nemica. Ne manca uno. Sgar, attaccare il cacciatorpediniero è rimasto. 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 E anche l'ultimo è andato. Nessun mezzo nemico nella zona. Area sicura. L'avamposto è ancora in questo. Grazie, 141. Anche noi abbiamo i nostri assi. Certo. Missione compiuta. Usciamo dall'area. Fever, portaci fuori. Atterraggio dei Jekyll autorizzato. Chiudo. Torre qui, 1-2. Scari in avvicinamento. Roger, Jekyll autorizzati all'atterrì. Il drone di navigazione è pronto, capitano. Rally fuori. Rally fuori. Rally fuori. il nostro asso attenzione me lo dicono anche i miei amici di GTA ah ma non dice niente qua capo no capitano al comando le squadre di recupero stanno finendo il lavoro siete stati grandi allora c'è l'ultima missione oh però eh mi dice che ti due c'è un raggio oh proprio fronte recupera materiali da un cantiere di demolizione vicino a Plutone caccia torpediniere supportato da una squadriglia di schelpo interveniamo attacchiamo e ci prendiamo quella roba ne abbiamo bisogno no eh dai tutti i rapporti delle otto presso l'albero principale i rapporti delle otto verranno raccolti dall'ufficiale esecutivo in amministrazione in effetti siamo a corto di materiali non abbiamo alternative e dubito che vorrà dividerle con lui capitano gli scelter SDF hanno già creato un perimetro ci attaccheranno al nostro arrivo Roger cosa sappiamo su quei cantiere? molti detriti pochissimo spazio di manovra gran divertimento SCAR raccomando massima cartella nelle zone con più detriti 1-1 check 1-2 check SCAR ricevuto caccia torpediniere a ore 12 in contatto arrestare i motori retribuzione ora ci pensano gli scari ricevuto buona caccia prima di ritagli scelter spoltiamoli prima di attaccare il pezzo grosso ok 1-2 pronta a sparare gli scelter sono sempre meno avanti così con piacere dobbiamo abbattere più scelter qui 2-2 sono noi non f Și che non mi sembra tipo vado la volevino ma come se e ne capito Cerca l'emicide, arrivo. Ricevuto. Facciamo il casino. C'è entrato, c'è entrato. Cazzo torpedigliere distrutto. Ben fatto, squadra. Attenzione, abbiamo altri caccia in arrivo. Roger, Fever, copiami. Recevuto. Becca quella, Ajak. Contra misura. Dovremmo girare rapidamente. La scuola è salito. Contra misura. Orbiti. Orbiti. Bel colpo, rider. In alto, finito. Flair! Contramisore! Gator, novità sul radar? Settore quasi al sicuro. C'è solo un asso a rovinarci la festa. Distruggilo, Raider! Ingaggio! E' finito! Bravo, Raider! Complimenti, ora abbiamo campo libero. Tutte le forze SDF sono state eliminate. Bel lavoro, Scar. Avvisare lo stratcom e mandare una squadra di recupero. Giusto, Reyes. L'UNSA ha bisogno di risorse. Torniamo a bordo, Scar. Retribution, squadra in arrivo. Non è pronto alla cazzo. Flap, carrelli, tutto pronto. Sei stato grande, Reyes. Anche tu, Sult. Guardate, c'è l'unica. Io sì che mi rappresentino, pure io. Un'altra missione è riuscita, Capitano. Abbiamo già individuato nuovi obiettivi da colpire. Nuovi da colpire. Ma si è fatto tutto. Eh, mancherebbe solo Marte, ma non lo fa. Ok, la luna di Saturno. Dovremmo occuparcene subito. Siete adesso. Natura Centus, specialità squadra blindata. Eh, andiamo. Per dare alla flotta il tempo di riprendersi, dobbiamo colpire le risorse nemiche. Il bersaglio? Titano, satellite di Saturno. Il fronte ha una stazione di rifornimento. Scenderà con i marini fuori dal perimetro delle pattuglie nemiche per trovare una zona d'atterraggio. Appena i rinforzi saranno in superficie, attaccherà la torre di rifornimento principale. Il bersaglio è la torre. Affermativo. Questo assalto terrà il nemico sulla difensiva e lontano dalla terra. Capitano, questa missione mi sta particolarmente a cuore. Scenderei con lei se potessi. Tocca, chiudo. Autorizzato, pronti a saltare. Alarmi collisione. Salto in 3, 2, 1. Valutazione? Non buona. Precisione 86%. Ne usciremo interi, Gator? Ci sto lavorando. Scappo in tensione. Salteremo in aria? Beh, forse no. Ma forse sì. Assetto di sorvolo. 3, 2, 1. Rapporto. Margine d'errore 0,05. Buon salto, Capitano. Complimenti, Gator. Bozzi. Porta il Capitano in armeria. A Giorgio. Ok. Erano 30 anni che non avevamo truppe sul mano. È una prova del fuoco. La distruzione di quella torre farebbe un gran bene al morale. Della nave o della terra? Entrambe, signore. Le comunicazioni avranno problemi. Speriamo non eccessibili. Supereremo anche questa. Scatene l'inferno, Capitano. Che cazzo è il regatore? Il mio segnale è scatenato l'inferno. Va bene. Sei a macchino, 7,5 metri. 900 dovrebbe essere super soli. Sì, ma solo se spinge al massimo. Titano, stavo preparando i marine per la missione su Titano. Tutti pronti tra 5 minuti. Sergente, ricevuto. Io vi lascio. Ho ancora delle armi da sistemare per lei. Grazie, Drift. Mai stato su Titano? Sì. Missione? No. Famiglia. Mio padre era un operaio. Ha lavorato sugli oleodotti per anni. Ha smesso prima che arrivasse l'SDF. Facciamogliela pagherai. Ci puoi scommettere. Aspettavo quest'occasione. Qual è il piano d'azione? Operazione congiunta. Io e lei. Ok? Affermati. Ricognizione. Piccola squadra. L'area è in mano nemica. Sì. Il SEDF non ha chiesto il permesso per piantare le tende laggiù. Quindi non servirà neppure a noi. I miei Jekyll sono già pronti. Lei faccia come al Gateway. e tutto andrà per il meglio. Sarà un onore, sergente. L'onore non conta un cazzo di niente, Capitano Reyes. La missione viene prima di tutto. Ricevuto. Sono certo che il sergente sappia che la parola onore è nel credo della marina. Ecco cosa non mi convinceva di voi, figli di puttana. Con tutte quelle uniformi bianche e sottomarini. Sottomarini? Sì. Solo la marina costruisce navi che affondano. Prepariamoci. Ma certo. Ah, Capitano. Sì? Portiamo Ethan con noi. Lo voglio in squadra. Gli farà piacere. Ha un enorme rispetto per i marina. Beh, direi che fa bene. Ethan, preparati. Salirai su Raven 2. Mi ho preparato qualcosa di interessante, Capitano. Lo scudo vi aiuterà a non farvi sorprendere alle spalle. Questa. Se l'hai consigliato questo, pigliamolo. Cioè, guarda. Faccio anche domande. Arriva subito. Il Capitano sa il fatto sfugo. Buona fortuna. Secondo lei, Sargente? È ora di andare, Capitano. Quali di sicurezza, Saul? Ti userò come cavia per una dimostrazione. Negativo! Non succederà più! Ah? Cercavo proprio voi. Comendiamo, Gibson? Raven 2 è pronto. Occhio! L'attrito subsonico dell'atmosfera di Titano non scherza. Chi ci sarai? Bugs. Lui vi porterà giù, ma non sarà una gita di piacere. Sopra il mal d'aria, Sargente? Mai. Beh, mai dire mai. Trasporta di qua. Informazione, tutti ai propri posti! Ti ho aperto che scipa. Si doverà a parecchio. Nessun problema, Sargente. Ti autorizzo a vomitare in brazzo. È stato un bel posto, signore. A sinistra, numero uno. Si vede. Hai sbagliato volo, lattina. Oh, calma, calma. Lui è con me. Chiudi la bocca, ok? Siedi, soldato. Sì, capite. Siamo in codice uno, Capitano. Possiamo andare, Bugs. Bene, pronti a scendere. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ci siamo. Tenetevi, ora si balla. Ragazzi, aprite le orecchie. Riguardo a Ethan, garantisco io per il nostro amico metallico. È uno dei nostri. Ethan, che fa la marina quando c'è da sparare? Manda i marine. Questo era per lei, Capitano. Sta bene, Kashima? Mi c'era un po' la testa. Dieci secondi alla meta. Respiratori. Ok. Brooks, la porta. Mi ricordo qual era il mio figlio. Una volta alla rapineria, segnaleremo una zona d'atterraggio per la squadra. Chiaro, chiaro! Oh, dove sono in avanti? 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 Ok, torno a casa. Appena... Il segnalo è sopra dove vedi. Qualcuno ha capito? Ci aspettare al zona d'atterraggio. Sarà difficile comunicare con questo tempo di merda. Per certi versi sembra di essere a casa. non doveva essere male andavo in banca con mio padre non lontano da qui ha visto giorni migliori di sicuro perché tuo padre era qui? per dare una vita migliore alla sua famiglia poi il serpente ha rovinato tutto lascia in pace il serpente, Ethan no, no, non è un problema capitano comunque sì, Ethan mio padre combatteva il trentaduesimo corazzato ah, vittoria o morte sì, esatto era sopravvissuto a due schianti su Deifus buon sangue non meno l'eroe trentaduesimo non era il marino questo non è il salto c'è qualcosa? questo era un bel posto prima che il serpente lo trasformasse in un campo di lavoro mio padre ha fatto in tempo a salvarsi a tutta questa gente invece è andata peggio che cosa terribile squadra di qua andiamo dobbiamo superare questa zona e arrivare alla luce brux, pescima in osservazione io e il capitano andiamo a sinistra sergente Ethan, soffa capitano attivita il nemico non si è pure le guardie hanno dei sicchi meglio restare nascosti non facciamoci scoprire chiederti grazie ai nemici che accorgono tutte vieni da un giudizio il settore è sicuro dei ricognitori oltre tocca a voi marino roger allarghiamoci capitano complimenti Kashima ora mi permettete procedere ricevuto stia con me capitano di qua pronta notizia che c'è Kashima? meglio nemico con battuglie vi tengo aggiornati cominci a portare settore libero ci penso io un altro ingresso in fondo verso di voi settore libero o si non sei neppure ma chi sta bene la giro si si Sicuro L'uscita al suo segnale capitano Grazie per l'aiuto socio Doveva essere in vista Al suo segnale Versaglio a terra Versaglio a terra Via libera Quando ero uno qui Bellissimo Abbiamo usato zombie star Iniziamo a salire Non facciamoci scoprire Nabi da svarco state giù Scusate Scusate Ancora niente Ah c'era un sicker Atterna Scusate Ancora niente Scoprii Un' Si Non ciò che voli Ii Ancora passiamo per quello occupiamoci di questa porta passiamo qui sotto riferisco subito retribuzione rider 1 1 zona individuata presenza nemica ma si già servono armi pesanti ricevuto carico aereo in arrivo rider